Seconda giornata di campionato Super 8, abbiamo qua di fronte a noi, buonasera gentili spettatori, Siviglia contro Napoli, punteggio non lo sappiamo, penso tra un po' ci aggiorneranno il risultato, 2-1 per Siviglia, 2-1 Siviglia. La demolizione di Andrea Marino, leader capitano del Napoli, sistema la barriera. Direttamente schema, grande intervento di Abate, che blocca lo schema del Napoli. Rimessa laterale per il Napoli, direttamente sul primo palo, Abate spazza, a volo, eviazione, fondo. Sto qua con esperti del calcio, procuratori direttamente dell'Inter, della Juve. Com'è questa partita? Secondo me è buona. Buona, si mangia? No, non è che si mangia. Per poco. Andrea Marino, eh? Dove è Schettino? Molto taglio. Non vediamo Schettino. Sta giocando Schettino. Ah, in attacco. Brutto, brutto rilancio. Bene così, bene così. Schettino, saluto a casa! Arbitro, favore. Posso arrivare la partita? Un po' scombinato questo gioco. Non vedo un gioco pulito. Molto damma palla nazi, lì mi cosa succede. Non lo so. Ecco, vediamo qua. Questa è una di quell'azione. Questa è una di quell'azione. Oh, grande fratelli! Che si è mangiato? Mangio. Mangio. Mangio che si è mangiaggio. Dato lo scurno dei giocatori, guarda. Che torno da nel dietro in felice. 2 a 1. Guarda, Luco, ci fai qua. La partita non hai sento, non ne ha le 8? Eh, lo so. Lo so, lo so. Bum! Grande! Fatti una bella corsa, vai! Metà. Vabbè, chiudiamo il collegamento. Ringraziamo il... Cronometro a fermo quando vai il pallone fuori. Sergio Stanziano, il mister del Napoli. Ci diamo il collegamento. Ringraziamo tutti. Un saluto dal mister Max. Sera. Che sai, continua col pallone di Max.